Salve a tutti ragazzi, qui c'è anche i parla e benvenuti in questo nuovissimo video Come potete vedere quest'oggi siamo finalmente di nuovo, voglio dire pure, su OSM Sì, ci eravamo lasciati se non sbaglio la dodicesima forse, è possibile? Sì, comunque ci eravamo lasciati molto molto ma molto... Diciamo prima, sì, perché comunque ho avuto problemi, non ho potuto fare video su OSM Comunque oggi ritorno e quindi andiamo subito, non perdiamoci in chiacchiere Ho già visto il risultato per questa partita, sono stato molto felice perché adesso vedrete Tanto se si fa... ah il bonus giornaliero, ok, ah aspettate perché lagga di nuovo Quindi fatemi fare una cosa Sì, perfetto Ok, sì, state vedendo il mio blocco schermo, il mio tutto, ye 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 Ok, perché molto probabilmente è per questo pure che va... che lagga molto Ok, vediamo se è per questo veramente No, non è per questo, è perché lagga proprio Vabbè, comunque ho vinto, come potete vedere, 6-0 contro il Ross County Veramente molto soddisfatto da questa partita Ben 16 tiri Comunque possesso palla 70%, molto molto... piaciutere pure un po' i marcatori Ah, Elia l'ho appena comprato, diciamo Cioè l'ho comprato da poco, non ve l'ho fatto vedere Ehm... ah sì, vi faccio vedere chi ho comprato C'ho ancora l'offerta per Griffiths Loll Sì, vabbè, ho comprato soltanto Elia, mi sa... mi sa The Driver, vabbè Voglio vedere un po' l'allenamento come siamo messi Ah, vero, non ho allenato nessuno, perché me lo sono sportato intelligentemente Comunque, vi faccio un po' vedere gli altri risultati Allora, se non sbaglio, ci siamo... ok, ci siamo lasciati alla dodicesima giornata Sì, quando ero contro il... ho pareggiato con il Dundee Poi ho perso contro l'Hamilton Accademico Veramente peccato, perché magari se cominciavo comunque da questa partita a vincere Non lo so come andavo a finire Comunque, poi c'è stata una serie di vittorie veramente impressionante Ho vinto contro il Kilmarnock 1-0 5-0 contro il Partick Tistol 3-0 contro il St. Joston Addirittura senza subire gol Poi ho perso 3-0 contro il Celtic Ho pareggiato 3-3 contro il Dundee United Che l'allenatore è stato di un bastardo che più bastardo non si può Perché? Allora, entro Metto squadra in ritiro perché il Dundee era quinto Io miro al quinto posto E quindi che ho fatto per provare a vincere comunque a ogni costo Gli ho mandato in ritiro Gli mando in ritiro Dopo qualche 2 secondi Mi arriva la notifica che l'allenatore Marco Orrano 2003 Ha mandato in ritiro il Dundee Cioè, mi sono incazzato come una bestia E infatti alla fine ho pareggiato tra 3-3 Poi vabbè contro il 6-0 hanno perso E sono stato veramente molto molto contento Anche nella partita contro il Motherwell Primo in classifica con cui ho pareggiato 1-1 Ci restano le ultime 3 partite contro Aberdeen, Dundee e Hamilton Academic Sono settimo Non posso più raggiungere il quinto posto Perché ci sono soltanto 9 punti a disposizione Comunque spero di superare almeno il Dundee Anche se non credo proprio Già, non penso di farcela Comunque questo è tutto Io passo diciamo ai saluti Non ricordo a chi è che ho salutato e chi no Ma lo sapete che non lo show Vabbè io saluto tutto Allora saluto Lui è sicuro che l'ho salutato Ok, allora saluto a Penso che stia per Antonio Conte 97 Che mi consiglia di usare il Sassuolo e il Palermo Poi saluto Vice 99 Che mi ha aiutato tantissimo veramente Perché mi ha consigliato di usare il 4-4-2-B con il Tiki-Taka Ed è, vi faccio un po' vedere Quello che sto usando per ora Come potete vedere Tiki-Taka e o il 4-4-2-B E appunto dopo questo consiglio Ho vinto 3 partite di fila Quindi ti ringrazio veramente molto Poi ringrazio Vabbè saluto anche Boni23 Che mi ha chiesto di salutare Mi ha consigliato acquisti da fare Insomma Poi anche Miki2800 Che ho già salutato forse Comunque Comunque Diciamo che appoggia la mia scelta del Sassuolo Ah ecco Marco Rana quindi Ah ecco chi è Ah ma sei un bastardo di quelli eccezionali Cioè aspetta Si è preso praticamente il Dandy che si era liberato No? No dai che bastardagile Ovviamente In senso buono eh Eh vabbè lo saluto anche se Bastard Eh comunque Le saluto anche Ovviamente si scherza Non te la prendere troppo serio Saluto anche Bartoku97 Che vabbè Ah si Poi di questo magari ve ne parlerò Dunque mi aveva Detto se magari il prossimo campionato Lo potremmo fare assieme Adesso Devo vedere di fare una cosa E poi anche Akiraki Akiraki Si Ok E niente Abbiamo finito i saluti La prossima partita sarà contro l'Aberdin Quindi Andiamo a mettere No la metto poi in solitaria la formazione E niente Direi che per questo video è tutto Alla prossima Ciao Ciao